Vuoi preparare le verifiche nel più breve tempo possibile? Scopri Verimat, lo strumento digitale per creare le tue verifiche di matematica. Domani c'è il compito in classe e non hai il tempo di prepararlo? Verimat mette a tua disposizione centinaia di verifiche già pronte. Verifiche oltre a prove di competenza, invalsi e test d'ingresso. Anche abbinate al tuo libro. Puoi modificare direttamente gli esercizi o sostituirli con altri proposti in Verimat o creati da te. Vuoi preparare un'esercitazione in base alle esigenze dei tuoi alunni? Scegli tra migliaia di esercizi. Trovarli è facile. Seleziona l'argomento o scrivi quello che ti serve. Potrai affinare la ricerca filtrando per difficoltà, tipologia e libro. Cerchi esercizi adatti a specifiche esigenze didattiche? Seleziona la categoria che ti interessa per avere subito quello che ti serve. Tutte le tue verifiche potranno essere esportate in Word e PDF e stampate per la classe. Vuoi mettere alla prova i tuoi studenti in vista degli impegni scolastici? Esplora le sezioni dedicate ai test d'ingresso, all'esame di stato e alle prove invalsi, con verifiche e simulazioni già pronte. E perché rifare il lavoro l'anno prossimo? Salva in archivio le verifiche e gli esercizi preparati quest'anno per averli sempre a disposizione. Scegli Verimat e semplificati la vita. Solo con De Agostini Scuola.